Io lo voglio un figlio, Paolo, e lo voglio da te. Non voglio che il nostro amore finisca. Paolo. Paolo. Ci capisce niente? Di motori, intendo. Buongiorno. Buongiorno. Che ci fai in giro a quest'ora? Volevo andare all'isola dei Gabbiani. C'è un'eremita che prepara un pesce meraviglioso. Domani ci andiamo tutti in gita. Volevo avvisarlo che ci preparasse qualcosa, ma questo non parte. Beh, ci possiamo sempre provare. Attenta. È finita la miscena. Finita? Già. Oh! Ecco.